I luoghi della misericordia in diocesi, Casa Betania, i centri d'ascolto Caritas, il guardaroba cittadino, il centro di distribuzione degli alimenti visitabili durante il congresso eucaristico. Il boom di presenze turistiche in Val Davet, positivo il bilancio dell'estate, le iniziative continuano anche a settembre. Si è rinnovata la tradizione del pellegrinaggio annuale alla Madonnetta Zoagli, la chiesetta è stata ristrutturata dagli abitanti con mano d'opera volontaria. L'associazione italiana Sclerosi Multipla cerca nuovi volontari nel Tigulio, venerdì banchetti informativi in piazza Matteotti a Chiavari. 30 anni del club Scherma Rapallo, festeggiati con il campione olimpico Enrico Garozzo, grande feste e progetti per il futuro. Estate Giovani 2016 ci porta a Cassego, questa sera protagonisti i ragazzi di Azione Cattolica e delle parrocchie di Levi e Sessori Levante. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13, in apertura torniamo a parlare del congresso eucaristico che si celebrerà a Genova dal 15 al 18 settembre. In particolare mettiamo in risalto quelle che saranno le iniziative che si svolgeranno anche nella nostra diocesi. Giovedì in occasione dell'inaugurazione del congresso eucaristico alle ore 21 il vescovo diocesano presiederà la Santa Messa nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Venerdì mattina dalle 10.30 alle 12.30 in concomitanza con Genova anche nella diocese di Chiavari si potranno visitare alcuni luoghi della misericordia, ovvero quei servizi che quotidianamente offrono un gesto di carità nei confronti dei più bisognosi. Sentiamo quali sono dalla segretaria della Caritas diocesana Rita Compagnoni. Quali sono i luoghi della misericordia della diocese di Chiavari? Abbiamo pensato di poter aprire, di chiedere a dei volontari di poter aprire alcuni servizi a disposizione per chi vorrà visitare questi luoghi e vedere come si svolge, come vengono accolte le persone che a questi luoghi si riferiscono. Concretamente avremo aperto a Chiavari il centro di ascolto in via Vinelli 12 e il guardaroba cittadino, a Rapallo il centro di ascolto, a Santa Margherita il centro di ascolto, a Cicagna il centro di ascolto, a Lavagna Casa Betania, a Sestri Levante il centro unico di distribuzione per gli alimenti per le famiglie bisognose. In che modo si potranno visitare e in quali orari? I servizi saranno aperti dalle 10.30 alle 12.30. Le persone liberamente potranno recarsi in questi luoghi e troveranno due o più volontari che spiegheranno loro come faranno visitare il servizio e spiegheranno come le persone vengono accolte, che tipo di lavoro si fa e di accoglienza e di vicinanza si può dare alle persone che vengono. Un modo per vedere la presenza di Gesù anche attraverso il volto di tanti poveri che poi si reccano in questi luoghi. Sì, è soprattutto un modo per diventare più partecipi e non deleganti il servizio della carità. Noi dobbiamo ricordare che l'Eucarestia è il centro di tutta la nostra vita credente. È da questo pane spezzato per tutti che nasce il bisogno e anche la volontà e il desiderio di stare vicino a tutti quelli che incontriamo sulla nostra strada, in particolare le persone più povere. Ora parliamo delle notizie di Cronaca Locale andando a fare un bilancio dell'estate in Val Davide. In particolare oggi ci soffermiamo su Rezzo Aglio, quest'anno solo le temperature estive hanno giovato a queste località che hanno registrato un boom di presenze turistiche. Settembre sembra comunque un mese da sfruttare per escursioni e passeggiati in montagna e già si guarda anche all'inverno. Che bilancio si può fare per l'estate dal punto di vista turistico in Val Davide? Allora quest'estate è stata un'estate ricca di presenze turistiche in Val Davide, anche perché la Val Davide offre la possibilità ai turisti di godersela 365 giorni all'anno. Abbiamo nel periodo invernale gli impianti di risalita e lo sci di fondo da praticare su penna e poi durante tutto l'anno è possibile passare giornate piacevoli al fresco e facendo passeggiate sull'alta via piuttosto che sugli anelli del parco dell'Aveto. E una grande affluenza di turisti c'è anche nelle riserve di pesca che saranno aperte non solo nel periodo estivo ma prolungheranno l'apertura anche sino ai primi di novembre. Due comuni che sostanzialmente insistono sul parco dell'Aveto nella parte alta. È in atto comunque una sorta di collaborazione tra le due amministrazioni? Un'ottima collaborazione che si riflette infatti nell'Unione dei Comuni dell'Alta Val Davide che ha visto anche quest'anno nascere un volantino turistico dove diamo informazioni a 360 gradi ai turisti cioè non solo per quanto riguarda le manifestazioni che abbiamo nel periodo estivo ma anche indicazioni generali sulla possibilità di vivere in Val Davide. A questo punto mancano i funghi, finora sono visti pochi. Stiamo facendo la danza della pioggia speriamo che sia anche una buona stagione per i funghi e noi abbiamo ancora qualche speranza e comunque vi aspettiamo tutti e siamo sicuri che la Val Davide vi resterà nel cuore. Tra gli appuntamenti consueti di settembre ricordiamo la mostra del cavallo bardigiano di domenica 11 a Farfanosa e la mostra della mucca cabannina domenica 18 settembre. Ora andiamo a vedere un aggiornamento circa la situazione incendi in Liguria come avevamo detto anche ieri sera un nuovo rogo si era sviluppato sul Monte Fasce e nel corso della notte è stato monitorato dai numerosi operatori che appunto sono giunti nella zona per tenere sotto controllo le fiamme. Fiamme che erano divampate ieri nel pomeriggio la situazione aveva creato particolare apprezzione perché le fiamme avevano lambito le abitazioni. La situazione è sotto controllo ma sul posto ci sono uomini della forestale i vigili del fuoco volontari della protezione civile che monitorano le fiamme per evitare che possano degenerare. Le operazioni di bonifica sono andate avanti tutta la notte e proseguono durante la giornata. E possiamo leggere un aggiornamento anche sul sito dei volontari della protezione civile di Genova l'aggiornamento di questa mattina questa notte la zona dell'incendio è stata presidiata da 20 volontari senza nessuna ripresa delle fiamme e questa mattina altri 20 volontari hanno proseguito le operazioni di bonifica lungo il perimetro dell'incendio. Stiamo vedendo proprio in questa fotografia anche l'ampio raggio in cui le fiamme si sono sviluppate con la vicinanza alle case. ieri sera era stata fatta evacuare anche una abitazione e i mezzi del coordinamento che sono intervenuti in forza proprio per arginare la situazione di pericolo e anche procedere alla bonifica delle zone che sono state percorse dalle fiamme. Oggi la Chiesa celebra la festa della Natività di Maria oggi pomeriggio alle 18 il Vescovo Diocesano procederà alla Santa Messa nella Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto e sarà trasmessa in diretta TV su Telepace 1. La ricorrenza è molto radicata nella fede di San Pietro di Rovereto sulle alture di Zoagli dove ogni anno in prossimità di questa data si svolge il pellegrinaggio al Santuario della Madonnetta. Il piccolo Santuario della Madonnetta sorge nel bosco sulle alture di San Pietro di Rovereto a Zoagli. È stato costruito nel 1847 dagli abitanti del paese come ringraziamento alla Vergine perché il paese di San Pietro era rimasto indenne dall'epidemia di colera che aveva miettuto vittime in tutta la zona circostante. Qui il paese è rimasto quasi indenne da questa epidemia e come voto hanno pensato di fare una piccola cappella e venirci il giorno 8 settembre come si faceva sempre prima per la Madonna degli Otto ci faceva sempre festa quel giorno lì. La fede della popolazione ha mantenuto viva la tradizione del pellegrinaggio annuale alla Chiesetta che si svolge oltre che a maggio ogni prima domenica di settembre in prossimità della festa della Natività di Maria e ha fatto sì che la Chiesa continuasse ad esistere con ristrutturazioni e opere di sistemazione che sono state realizzate dalla popolazione a titolo volontario. Nel 2007 abbiamo fatto un po' di lavori di restauro perché ce n'erano bisogno ed è partita quasi per scherzo la cosa poi ci siamo fatti prendere un po' la mano e abbiamo ristrutturato praticamente tutto l'esterno e anche l'interno della Canonica soprattutto. e questo a seguito dei primi lavori di restauro dell'interno che sono stati fatti per il 150 enario e abbiamo fatto questi lavori praticamente solo la gente del posto che era dal ragazzino che ci aiutava a lavare a cambiare l'acqua dei secchi piuttosto che il muratore in pensione o quello che fa tutt'altro e abbiamo fatto tutta questa ristrutturazione che non è una cosa piccola perché la Chiesa è molto grande compresa quella della Canonica che è dall'altro lato ed è stata al di là del risultato che è stato di recupero diciamo di riconsolidamento ma anche una questione di esperienza di comunità interessantissima perché c'era veramente si è creato un legame tra tutte le persone che hanno lavorato a questa ristrutturazione che è stato un arricchimento personale al di là di quello che è stato poi il risultato del lavoro. Come annunciato la parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio si appresta a festeggiare l'ingresso del nuovo parroco Don Stefano Curotto la cerimonia si svolgerà domenica prossima con inizio alle 15.30 in Piazza Canessa ci sarà il momento dell'accoglienza seguirà la messa presieduta dal Vescovo poi ci sarà la festa nei locali della Casa della Gioventù contemporaneamente all'insediamento del nuovo pastore inizierà il suo servizio come vice parroco anche Don Matteo Prettico che fino ad oggi è stato parroco nelle comunità di San Colombano di Vignale e San Martino del Monte le due comunità fontanine saranno affidate da Don Paolo Gagliotti che ne sarà amministratore parrocchiale Don Paolo Gagliotti manterrà anche i precedenti in carico di parroco di San Marziano di Carasco e San Pietro e Santa Maria di Sturla Come ogni anno settembre è il mese che AISM dedica ai volontari uno degli elementi più importanti della missione dell'Associazione per la Sclerosi Multipla offrire alle persone affette dalla malattia la loro famiglia la piena inclusione sociale la miglior qualità di vita possibile i volontari sono una forza fondamentale di cui c'è molto bisogno soprattutto nel Tiguglio domani venerdì a Chiavari ci sarà un banchetto per dare informazioni e dove si spera di reclutare nuovi volontari sentiamo Qual è l'esigenza? Qua nel Tiguglio abbiamo particolarmente bisogno di volontari abbiamo una sede che è via Franceschi 42 e tante tante persone da aiutare sul territorio quindi abbiamo bisogno di disoccupati pensionati casalini che di chiunque abbia un po' di tempo da mettere a disposizione per questa attività di supporto alla persona Quante persone assistete nel Tiguglio? Nel Tiguglio circa 30 ad alcune purtroppo dobbiamo dire di no proprio per la mancanza di risorse Di quali servizi c'è bisogno? Soprattutto le persone con sclerosi multipla hanno una disabilità motoria quindi il loro problema è fondamentalmente spostarsi noi abbiamo un mezzo attrezzato quindi con questo portiamo la persona se in carrozzina o comunque anche di ambulante con appoggio dove deve andare chi sarà speso una visita medica dalla parrucchiera a trovare il nipotino insomma è un supporto a quello che è la routine di tutti noi di tutti i giorni Quindi effettivamente c'è bisogno di una vicinanza come dire logistica ma anche umana Beh certo noi volontari non chiediamo solo di fare gli autisti ma chiediamo di essere presenti in tutto e per tutto le persone hanno bisogno di chiacchierare di interagire quindi non è un servizio da tassista che farebbe volontario un servizio proprio di accompagnamento come se fosse un parente o un amico Venerdì il banchetto dove si troverà? Saremo in piazza Matteotti via Martire della Liberazione con un nostro tavolino quel giorno lì facciamo esclusivamente reclutamento quindi daremo la possibilità alle persone di chiedere informazioni saremo ben lieti di darle e soprattutto quel giorno non chiediamo offerte noi saremo dalle 10 alle 13 dalle 14 e 30 alle 17 faremo anche il test della solidarietà un piccolo giochino per capire quanta solidarietà c'è in ognuno di noi proseguono gli interventi mirati alla lotta guidata alla mosca olearia nelle zone costiere dei comuni di Moneglia Sestrilevanti e Lavagna il secondo trattamento ha perso efficacia per questo motivo si consiglia di eseguire un ultimo trattamento con prodotti larvicidi in queste zone infatti continua ad aumentare il contenuto di olio nelle cellule anche per la Val Graveglia la Fontana Buona nelle zone al di sopra dei 200 metri sul livello del mare si è superata la soglia di intervento e pertanto si rende necessario un secondo trattamento in quelle aree dove il trattamento è stato consigliato la settimana scorsa si consiglia di assenersi ora parliamo di sport e parliamo dei 30 anni del club Scherma Rapallo 30 anni festeggiati sul lungomare rapallese con una festa in notturna e la presenza di alcuni campioni di scherma tra cui il campione olimpico Enrico Garozzo medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 30 anni festeggiate e in più questa bella manifestazione di questa sera con i campioni olimpici decisamente sì è un bel punto di arrivo ma forse più un punto di partenza diciamo che in questi 30 anni io ne ho vissuti solo una parte una decina circa e di lavori ne abbiamo fatti tanti la palestra è cresciuta è cresciuta sia fisicamente con un ingrandimento è cresciuta in termini di successi perché abbiamo atleti del calibro nazionale e internazionale quindi direi che è un bel posto dove i ragazzi sicuramente possono vivere bene un'esperienza credo unica accanto a dei campioni di assoluto livello l'ho fondata io nel 1986 e 30 anni sono passati e bellissimi perché mi ricordo tutti i miei atleti dai primi 5 di cui faceva parte Martina Bacigalupo che poi è diventata un'atleta fortissima e a tutti gli altri che si sono susseguiti in queste tre palestre ovviamente non avrei potuto far niente senza un consiglio a fianco che in questi anni è cambiato ma tutte persone speciali quello di adesso lo è ancora di più Una campionessa che arriva a Rapallo Sì diciamo che ho intrapreso da due giorni la vita qua a Rapallo e inizierò questo quadriennio in vista delle Olimpiadi di Tokyo però ancora prima diciamo ci sarà un anno di Coppa del Mondo e di campionati sia in Italia che all'estero Enrico racconta qualcosa di questa medaglia d'argento Parlare di emozioni olimpiche è difficile perché non è facile esprimerlo a parole sono delle sensazioni bellissime che sicuramente mi porterò dentro sono stati tre anni fantastici con la ciliegina sulla torta di questa medaglia un percorso bellissimo sotto tutti i punti di vista quello sportivo ma soprattutto umano perché sono e siamo cresciuti come individui e come squadra primo torneo di calcio a 5 con i giovani delle comunità parocchiali di Rapallo in programma domani venerdì 9 settembre alle 17 nel campo giochi comunali Cuneo in via Trescalini in zona Sant'Anna le gare termineranno con la cena tutti insieme ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina poi ci ritroviamo con altre notizie e servizi Avvenire titola sempre più Brexit Londra alza un muro anti-immigranti in Francia Unicef i bambini profughi salgono a 50 milioni alcuni paesi europei si blindano Gran Bretagna costruirà una barriera a Calais l'Austria pronta a bloccare le richieste di asilo in 25 anni mai così poche uccisioni in America il boia ora si ferma negli USA esecuzione solo in tre stati la pace di Grillo Raggi va avanti ma noi vigileremo in retroscena Virginia Raggi nel bunker mi sento come tradita all'interno di avvenire Canalone rimosso i primi veleni sabbie inquinate da idrocarburi si indaga sugli scarichi notturni stiamo parlando di San Ferdinando a Reggio Calabria Gioia Tauro l'ultimo tratto è stato ripulito ma le proteste della gente continuano Noè al lavoro per identificare i responsabili secolo XIX Grillo Raggi avanti Di Maio chiede scusa nel comizio di Nettuno la nuova star del Movimento 5 Stelle di Battista e la sindaca salva gli assessori discussi Via Marra e Romeo e poi ancora lungo un chilometro per tenere fuori i migranti gli inglesi alzano il muro di Calais a carico dello Stato anche fecondazione assistita e terapia contro la dudopatia ma in Liguria ci sono problemi di copertura di costi multe in arrivo per chi disturba ai cacciatori i rumori per allontanare la selvaggina la regione avuta le sanzioni previste multe fino a 600 euro e poi ancora il reportage a casa di Hammer il falso dottore che cura il cancro con le vitamine e per il Levante strade provinciali sarà l'Anas a curare la manutenzione vediamo all'interno tre arterie del Levante tornano ad Anas i sindaci una speranza per la manutenzione dopo anni le strade potrebbero cambiare anche il loro nome o il loro numero firma vicina per il passaggio delle provinciali di Centocroci della Val Fontanabuona e Aveto riecco il tunnel per Tote strategico a dirlo è il consigliere regionale di Forza Italia Muzio che risponde a Paita rimane però la criticità delle risorse dice il comitato a favore dell'opera contro l'ex assessora dia una chiamata a Renzi sempre all'interno del secolo nel Levante il consigliere comunale di Lavagna Tallerico torna libero ma dalle 21 alle 7 non può uscire di casa parliamo naturalmente delle indagini conti di Lavagna indagini sull'andrangheta confermati i permessi per lavorare a San Colombano per l'ex consigliere obbligo di dimora a Lavagna Nel periodo estivo la Guardia di Finanza di Genova ha ispezionato 40 aziende scoprendo 19 lavoratori completamente in nero possiamo leggere la notizia sul nostro sito internet teleradiopace.com sono state elevate sanzioni amministrative che hanno anche superato i 60.000 euro in particolare nel corso di un controllo in un bar ristorante in uno stabilimento balneare del litorale genovese sono stati individuati 4 dipendenti in nero su 8 all'arrivo dei finanzieri gli assunti non regolarmente hanno cercato di darsi alla fuga e uno di loro ha cercato di scappare via mare con un pedalò in un altro caso il numero dei lavoratori in nero superava la percentuale di tollerabilità prevista dalla normativa sulla sicurezza del lavoro infine sempre in estate sono stati effettuati 218 controlli sul regolare rilascio degli scontrini nel 56% dei casi è stato riscontrato il mancato rispetto degli obblig fiscali andiamo ora in redazione per vedere se ci sono altre notizie per noi Maurizio Garreffa grazie Cristina buongiorno a tutti la scuola chiavarese del fumetto ritorna a Chiavari una notizia importante per la città perché la scuola lascia dunque Sestri Levante per tornare nella sua città di origine questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione con tutti i dettagli di questo ritorno c'erano il sindaco Roberto Levaggi il direttore della scuola Enrico Bertozzi e la fondatrice di YLab Vittoria Gozzi l'incontro con YLab infatti e la sua realtà giovane e creativa ha influenzato la scelta dei vertici della scuola del fumetto nel riportare la scuola a Chiavari la sede sarà infatti nei locali di YLab dove venerdì 16 settembre alle ore 18 ci sarà l'inaugurazione con la festa e anche un'esposizione di opere di fumettisti che sono nati a Chiavari hanno frequentato Chiavari naturalmente sarà possibile iscriversi a partire dal 19 di settembre dunque nella sede di YLab in via Gagliardo 7 a Chiavari dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 queste le immagini della conferenza di questa mattina ma torneremo a parlarne nei nostri telegiornali a te Cristina bene grazie ora andiamo a vedere alcune anticipazioni della rubrica estate giovani che andrà in onda questa sera alle 21.10 su Telepace 1 questa sera andremo a Cassego per seguire l'esperienza dei campi estivi svolta dai ragazzi di prima e seconda superiore di Azione Cattolica seconda e terza media delle parrocchie di Sessere Levante e seconda e terza media delle parrocchie di Camposasco e San Bartolomeo di Leivi per questo campo abbiamo scelto il tema delle Olimpiadi siamo partiti dalla convocazione poi dalla convocazione alle emozioni che ci abitano dopo che siamo stati convocati quindi il tema della chiamata poi il tema dell'allenamento quindi come importante ma poi la fedeltà e la fiducia ancora affronteremo nei prossimi giorni il tema della gara e anche poi per arrivare alla vittoria o alla sconfitta quindi come anche affrontare nella vita poi ecco le nostre vittorie ma anche le nostre sconfitte siamo partiti dall'ultima cena di Gesù il preparare l'ultima cena il vivere l'esperienza dell'ultima cena e poi gli altri pasti che Gesù ha fatto nel momento della risurrezione con i suoi discepoli come dire che partendo dalle cose più semplici più vere della vita si può imparare a vivere come Gesù è più facile crearsi dei nemici che costruire delle amicizie ma le nemicizie sono legate più che altro alle paure nostre o altrui e questo mi sembra che i bimbi l'abbiano colto subito cioè come avessero colto che in fondo quello che quello che ci allontana è in fondo la paura o il non conoscerci o a volte i pregiudizi l'appuntamento con estate giovani questa sera alle 21.10 su Telepace 1 l'informazione torna questa sera in diretta alle 19.15 alle 20.30 alle 22.45 vi ricordo alle 18 la diretta dalla cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiaveri con la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro Vescovo Diocesano è davvero tutto grazie dell'attenzione buon pomeriggio a Chiaveri Grazie a tutti.